Musica Vittorio Caselli, dopo un po' di anni torno a indossare la maglia della scuola della tua città Che emozione? Dopo un po' di anni sono tornato, oggi è un'emozione unica Speravo di segnare il gol, farlo diventare ancora più rotondo L'importante era dare un contributo a questa squadra, a questo campionato Alla linea di te ti sei messo a disposizione gratis della Samba per dare il tuo contributo Per te è un onore giocare nuovamente con la maglia della Samba Sì, a me indipendentemente dal contributo che voglio dare a questa squadra Dipendente dalla categoria, da tutto Perché essendo di Samba ne ho detto, come è stato in passato, adesso ancora di più Magari contribuire a questa impresa con questa squadra, essendo di Samba è ancora di più un onore Ti racconti com'è arrivata questa chiamata della Samba, ci avevano detto che tu stavi per accasarti in un'altra squadra E poi questa telefonata Sì, era una chiamata inaspettata perché proprio stavo, cioè, era un po' di tempo che stavo ad allenarmi con una squadra qui vicino Vedendo che ancora non arriva nessun'altra chiamata in categoria superiore, mi stavo per accordare Stavo andando a firmare, invece all'ultima è arrivata la chiamata dalla sede E il giorno dopo sono andato a parlare, diciamo, quasi subito ho trovato l'accordo Perché appunto ho detto, per me era, cioè, è un sogno che sta vero, diciamo Grazie A voi Grazie 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 Grazie